Un elicottero russo Mi-24 è precipitato in Armenia nei pressi del comune di Yerashke. Il velivolo sarebbe stato abbattuto da un sistema missilistico vicino al confine con l'Azerbaijan. A riferirlo il ministro della difesa russo, secondo fonti di Mosca, due membri dell'equipaggio sono morti, un terzo è rimasto ferito. Il velivolo scortava un convoglio di mezzi da una base militare russa attraverso il territorio dell'Armenia, mal di fuori della zona di combattimento. Grazie.